La discriminazione da parte del Rettore dell'Ateneo di Torino verso gli studenti torinesi è per fare in modo che i profughi, i 50 profughi a Torino, non paghino le tasse. Questo è assolutamente contraddittorio a quel che dice la sinistra perché bisogna aiutare chi ne ha veramente bisogno e i piemontesi e i torinesi ne hanno veramente bisogno, oggi più che mai.